ehi bello a tutti ragazzi siamo qui su un nuovo video di portamento però questa qualun'azione alle giocate epiche di io non riesce a mancarlo guarda ecco perché se non aspettate un attimo ci prenderemo subito da qui ecco non ci credo dai questo qua è 2017 quindi non è 2018 quanto non ci credo dura un'ora lo guardiamo un pochino le vecchie trappole bella 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 guardate come c'erano le cose delle granate il dovevo un po' double pompe No, 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 no Non ci credo No Riguardiamo Questa è l'orientatore Anche se sentirete male però è soltanto a l'orientatore Aspettate Ok Guardate Guardate Non ci credo Oh ninja Il piccolo ninja Che ormai diventa un grosso conto Ok Oh 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 Ok Oh 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 Oh